buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video di quadricottero news in questo video grazie alla collaborazione con massimiliano barbaro che è istruttore apr e controllore di volo parleremo degli spazi aerei che devono essere rispettati anche dei droni questo perché la prima versione di regolamento enac che per la prima volta ha normato questi dispositivi volanti in italia li ha considerati aeromobili a pilotaggio remoto e cioè apr tuttavia nel 2015 con la dichiarazione di riga si è iniziato a pensare di classificare i droni non più come aeromobili standard ma come un nuovo tipo di aeromobile che ha bisogno di regole dedicate in pratica nel 2015 è nata la prima idea del regolamento europeo droni la prima bozza che mette al centro classifica i droni e le operazioni a seconda del rischio nel corso del tempo questa bozza è stata modificata leggermente e però è rimasta nei suoi principi base e l'anno scorso è diventata legge europea che sarà applicata a luglio 2020 però come tutto lascia presumere sarà posticipata al gennaio 2021 per l'emergenza coronavirus questo concetto di drone come nuovo tipo di aeromobile influenzerà anche lo spazio aereo dando vita a sistema uspace che praticamente lo spazio aereo riservato ai droni dove però potranno anche volare gli aeromobili standard in condivisione in pratica un sistema di coordinamento del volo che permetterà di far volare sia i droni sia gli aerei tradizionali con equipaggio evitando i rischi di collisione quando sarà applicato il regolamento europeo i droni per ottenere la nuova marcatura ce dovranno avere un sistema interno di geofencing ma anche un sistema di mappa elettronica aggiornata a quella effettiva dello stato membro in cui ci si trova a volare così dovrà essere per tutti i droni di classe superiore alla c0 la c0 non dovrà avere questi sistemi comunque uspace riguarderà anche e soprattutto i droni più grandi i droni specific i droni certifi ed le operazioni in bv loss fuori dalla vista del pilota utilizzati per il controllo e monitoraggio di infrastrutture lineari per il trasporto pacchi se un giorno mai ci sarà e via dicendo comunque le open categorie del regolamento europeo si chiamano open proprio perché sono rivolte a tutti alla popolazione in generale che non è avezza né al gergo aeronautico e nemmeno alle regole aeronautiche per questo motivo i droni avranno loro interno mappe e tutto sarà facilitato ed è anche per questo motivo che è nato il portale di flight dove all'interno si sta realizzando appunto la mappa elettronica ufficiale dell'italia non è ancora allineata alle hype alle cartine hype e nav però ci sta lavorando e più avanti si andrà nel tempo e più il tutto sarà affinato e quando ci sarà il regolamento europeo dovrebbe essere tutto a regime tutto perfetto il problema però è che nel frattempo chi vuol far volare un drone deve seguire l'attuale regolamentazione e le attuali regole dell'aria che come ho detto prima sono pensate per gli aeromobili tradizionali per gli aerei con equipaggio quindi in questo momento un drone e un aereo sono la stessa cosa per l'attuale regolamentazione motivo per cui è necessario conoscere gli spazi aerei dei spazi di volo ma come facciamo a conoscerli in questo ci viene in aiuto l'amico massimiliano barbaro che ha realizzato un tutorial un tutorial di qualità e completamente gratuito sono argomenti che probabilmente si possono trovare in corsi a pagamento a venduti anche a caro prezzo quindi ringrazio massimiliano e gli lascio la parola prima però vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi buongiorno a tutti abbiamo chiesto all'interno del gruppo quale poteva essere un argomento che avresti voluto approfondire con un video tutorial è emerso sostanzialmente che quello sugli spazi aerei è un argomento che la maggior parte di voi vogliono appunto rivedere io sono massimiliano provo a fare questa questa veloce carrellata gli argomenti sono tanti sono complessi farò in modo di utilizzare dei termini semplici anche se non è facile ho rivisto questa presentazione l'ho adattata un pochino al contesto devo andare veloce non mi soffermerò sulle cose perché altrimenti diventa un tutorial estremamente lungo ovviamente vi invito ad approfondire su tutte diciamo le normative che potete avere a disposizione tramite enac quindi sul loro sito tramite il syllabus tramite le regole dell'area insomma per chi vuole un modo per approfondire ce n'è partiamo con le fonti normative quindi a epitalia e regolamento sera quello europeo il 923 del 2012 ho voluto mettere inizialmente questa rappresentazione grafica che è stata prodotta una delle tante prodotte da euro control quel simbolino in basso sulla destra colore di colore azzurro è il logo di euro control che è un'organizzazione intergovernativa civile militare a cui partecipano 41 stati europei che ha il compito principale quello di sviluppare e mantenere il controllo del traffico aereo a livello europeo quindi è una sorta di supervisor in qualche modo e anche fornitore per qualche cosa di servizi di traffico aereo e i puntini gialli che vedete sono sono appunto i pelivoli che si spostano un po in tutte le parti del del globo in basso sulla sinistra sempre in giallo trovate quello che è sostanzialmente una sorta di di orologio quindi in orario utc e quello che avviene nei nostri cieli sembra strano sembra assurdo ma c'è talmente tanta attività nei nostri cieli che serve tutto un complesso di regole regolamenti personale che ci lavora e soprattutto serve tanta 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 sicurezza tanto ordine di tutte queste movimentazioni che vedete qui è rappresentato soltanto ovviamente il traffico aereo civile ma come ben sappiamo gli utilizzatori dello spazio sono tanti altri non solo il traffico commerciale a breve lo vedremo quindi questo è giusto per introdurre sensibilizzare sul fatto che lo spazio aereo anche se apparentemente sembra che uno guardi in alto non c'è nessuno però diciamo è molto molto congestionato cioè molto lavoro concetti chiavi di questo briefing sono appunto la sicurezza e il flusso ordinato della gestione dello spazio aereo cosa sono questi spazi aereo? tradotto in poche parole sono una sorta di contenitori immaginari chiamiamoli così hanno un volume quindi hanno diciamo un'estensione verticale e un'estensione orizzontale l'estensione verticale è data dalle quote l'estensione orizzontale è data dai punti geografici o dalle determinate zone sono istituiti per garantire la sicurezza di chi ci lavora all'interno delle diverse tipologie di operatori o di traffico aereo che ci lavorano all'interno in alcuni di questi poi lo vedremo soprattutto quelli diciamo utilizzati per la circolazione aerea vengono forniti determinati servizi in base alla classe di spazio aereo ed eccole le tipologie diverse tipologie di traffico aereo queste sono solo alcune partiamo dal pallone sonda per le relazioni meteo gli alianti i mongolfiere il piccolo aeroplanino privato il jet da trasporto un po' più piccolino l'executive il business quindi chi magari fa trasporto di questo tipo ovviamente gli aeromobili a uso civile che trasportano persone passando per gli elicotteri di tutti i tipi di elicotteri da quelli militari a quelli civili a quelli di soccorso come in questo caso è un'eleambulanza ovviamente poi c'è tutta la componente di altri tipologie di utilizzatori dello spazio aereo che potrebbero essere le attività di lanci paracadutisti attività sportiva in generale poi ovviamente la componente militare e non ultima la componente dei trasporti dei cargo quindi chi fa trasporto merci ma non meno importante di tutti siamo noi in qualche modo utilizzatori dello spazio aereo con il nostro drone che a tutti gli effetti come ben sapete ormai è equiparato è considerato da definizione un aeromobile è soggettato al codice della navigazione è soggettato a tutte queste regole che dobbiamo studiare per il quale dobbiamo sostenere un esame e per il quale io vi invito a rivedere sempre le cose perché ricordatevi non è che una volta preso l'attestato poi allora siamo a posto le cose cambiano i concetti si aggiornano quindi chi decide di fare questa cosa a volte può sembrare esagerato considerare un drone al pari di un aeromobile però al di là delle nostre considerazioni personali questo è e vi invito tutti sempre a diciamo a mantenere viva questo interesse sulla normativa per volare tutti in sicurezza che è lo scopo di questo briefing lo scopo del nostro gruppo dji mavic mini sardegna lo spazio aereo italiano sostanzialmente quello che sovrasta il territorio nazionale le acque territoriali e al di sopra delle acque internazionali come potrebbero essere queste al centro del martirreno dove vengono però attribuiti all'italia i servizi della navigazione aerea è una risorsa comune e deve essere gestita appunto per fare in modo che si possano contemplare esigenze di tutti gli utilizzatori quelli che abbiamo visto prima questa è una mappa che noi vediamo la classica il classico ingresso su di flight il nuovo portale della società di flight che è una società del gruppo enav quindi enav società che si occupa del controllo del traffico aereo in italia insieme all'aeronautica militare questo di flight questa schermata ci fa vedere tutte le aree vista così lo so che molti dicono cavolo non si può volare da nessuna parte non è vero anche grazie di flight anche grazie alle ultime normative enac diciamo gli spazi sono aumentati però ovviamente dobbiamo tener conto di dove si può volare a che quote e dove non si può volare questo è diciamo uno spaccato un po più da vicino della nostra area sud sardegna come vedete ci sono gli ATZ di Cagliari Elmas di Decemomanno ci sono diciamo in qualche modo la zona che interessa il CTR di Cagliari zona 1 la zona 1 che è questa qui in celeste che interessa la superficie diciamo il volume di spazio aereo che va dalla superficie ground fino a una certa quota ci sono quelle zone rosse quelle zone reticolate quindi tutte zone che noi dobbiamo tenerne conto io ho fatto questo tipo di suddivisione per parlare di spazieri per cercare di farvi capire meglio ci sono spazieri che servono appunto per la gestione e la protezione di quella che è la circolazione aerea degli aeroplani ci sono spazieri che servono invece per proteggere determinate attività o dei luoghi sensibili ci sono spazieri che sono destinati esclusivamente alle attività militari e poi c'è tutta un'altra tipologia di spazieri che vi invito ad approfondire dove sono appunto tutte le altre attività di natura pericolosa più o meno pericolosa i potenziali pericoli tra cui anche quello della protezione ambientale gli spazi aerei per la circolazione aerea generale sono quelle che abbiamo studiato avete studiato anche su syllabus sono le FIR le informazioni di le regioni di informazioni vol le cta quindi le controllare le regioni di controllo le terminal area le tma i ctr gli atz e anche le rotte che fanno gli aeromobili quindi aerovie rotti di elicotteri e quant'altro questi sono spazi aerei che hanno quel tipo di finalità proteggere il traffico che circola dare i servizi ci siamo noi controllori del traffico aereo che formiamo tutta una serie di appunto di servizi per chi deve operare in queste zone poi ce n'è un'altra tipologia di spazieri non meno importante che è quella che poi ovviamente riguarda ognuno di noi come dronista che sono appunto le zone vietate le zone papa quelle zone che sono invece regolamentate le zone che sono considerate pericolose t ra tsa e zona questa qui la cba la zona cross border quindi che sta quella che sta ridosso dei confini sono tutte queste cose poi noi le ritroviamo all'interno di di flight sotto forma appunto di vari colori e di varie specifiche infine su sempre su di flight troviamo tutta una serie di altre zone tra cui possono essere tutte queste che vedete qui e non solo zone di lanci palloni per radio sondaggio e osservazioni meteo zone per lanci per i lanci rase scusate facce luminose zone vulcaniche attività di lanci paracadutisti nella nostra zona di caglia ad esempio il sud sardegna c'è la zona di serdiana dove viene fatta attività lanci para poi ci sono tutte quelle zone quelle aree degli aeroclub dove si fa volo acrobatico dove si fa lavoro aereo tutti quei posti dove si fa volo sportivo quindi piccoli aeroplanini gli ultraleggeri quindi quelle zone potrebbero essere sempre rimanendo qui nel comprensorio del sud sardegna potrebbe essere il campo volo di sadoda potrebbe essere siligua e poi ci sono tutti i parchi naturali e le zone che sono soggette a quella che è una protezione per l'area per la fauna diciamo che questi non sono dei veri propri spazi aerei nel senso che non è che possiamo definirli proprio tali però sostanzialmente sono zone dove in qualche modo è proibito il sorvolo e quindi di conseguenza diventano uno spazio aereo dove non si può volare e però raggruppati così a secondo ho messo dei colori così giusto per differenziare le varie zone quindi quando noi pensiamo agli spazi aerei dobbiamo pensare sostanzialmente a tutte queste cose che vedete in questa slide però ogni spazio aereo ogni gruppo di spazio aerei come sono messi qui ovviamente nasce per delle finalità diverse quelle che abbiamo visto prima ma tutti questi in un modo o nell'altro ve li ritrovate sotto le varie forme all'interno di the flight poi vi ricordo riguardo proprio alle alle queste zone che io ho messo in verde in questa slide che all'interno della circolare en htm 03b all'articolo 6 c'è questa specifica qui che fa quella che è l'equiparazione di quelle zone alle zone romeo delta o papa e quindi vediamo che le zone dove fanno la violancio è considerata una zona romeo quindi ci sono orari di attivazione quando si può quando la zona è attiva ovviamente non si può volare ve lo ricordo ci sono le zone per il volo acrobatico anche queste equiparate a zone romeo ci sono tutto quello che è aeroclub attività addestrativa alleanti e quant'altro lavoro aereo anche queste sono equiparate a zone romeo e difatti se andate su d flight dove vedete zona romeo dove vedete queste queste varie zone qui attività lancivara vola acrobatico aeroclub e quant'altro vedete che ci sono delle limitazioni e spesso però uno dice ma che cos'è sta cosa ma non è un aeroporto ma non è una zona delta come mai io qui ho quel tipo di limitazione per questo motivo che vedete in questa slide qui poi ovviamente ci sono anche le zone per gli aeromodelli gli apr quindi diciamo delle dei campi volo appositi le zone per attività di volo da di porto volo sportivo le vds in questo caso sono equiparate a zona delta proprio oggi parlavo con un utente un amico iscritto al gruppo che mi diceva ma io qui all'interno di difatti vedo questa zona c'è il reticolato ma che cos'è non è una zona delta non è quello negato non trovo nessun riferimento però c'è il reticolato però mi dice che posso volare a 120 metri ecco questo è proprio l'esempio quella è una zona di volo da di porto sportivo vds che è equiparata una zona delta ecco perché di flight ci dice che in quella zona magari possiamo volare fino a 120 metri in quanto le zone delta si può volare fino a 120 metri però dice attenzione io ti avverto che c'è un'attività di pericolo quindi attenzione a quanto saliamo di vuota col nostro drone anche se possiamo andare fino a 120 metri ma ci sono altri utilizzatori vi ricordo proprio parlando di questa cosa vi ricordo che il drone è quello che deve dare la precedenza a tutti perché è un mezzo a pilotaggio remoto senza equipaggio a bordo e tutto quello che invece ha un equipaggio a bordo comunque sia la presenza di persone anche nel caso di zone di lanci para ovviamente tutte quelle cose lì hanno la priorità nell'utilizzo dello spazio aereo quindi attenzione ecco perché di flight ci mette le zone con reticolato ci dice 120 metri non ci può proibire di volare perché è una zona diciamo cosiddetta dangerous quindi una zona delta ci si può volare però al nostro rischio e pericolo e noi dobbiamo essere consapevoli che all'interno di quella zona può accadere una determinata cosa qui ho messo una un'altra rappresentazione grafica così giusto per dare ancora un po più un'idea a livello visivo scusate va a scatti ma al computer è quello che è allora qui vediamo appunto come quella zona rossa che è una zona dove quell'aereo militare andrà a fare un'operazione quindi in quel caso è una tsa una zona temporariamente segregata a quel tipo di attività come lo spazio aereo è flessibile si interfaccia tra tutti i vari utenti in questo caso ci va a vedere la differenza appunto tra una zona militare quindi utente militare e vedete a fianco in tutti quei corridoi celesti gli aeroplani civili che devono attraversare quelle zone o quelle devono circonnavicare vedete quelle zone verdi che sono le zone di atterraggio insomma tutto questo per dire che l'uso dello spazio aereo il concetto che esiste da tanti anni a livello europeo è appunto quello dell'uso flessibile tutti dobbiamo utilizzare lo spazio aereo in funzione delle nostre necessità però tenendo conto appunto delle varie peculiarità della tipologia di traffico e delle zone che ci sono quali sono un po questi spazio aereo allora vado veloce anche qui la prima grande suddivisione è spazio aereo inferiore e spazio aereo superiore quindi prendiamo il nostro volume così infinito di spazio aereo e facciamo questa prima divisione in termini verticali da zero a livello 195 livello di volo 195 che come vedete corrisponde grossomodo a quasi 6000 metri è lo spazio aereo inferiore al di sopra c'è lo spazio aereo superiore quindi da 195 in su 195 escluso c'è lo spazio aereo superiore e questo appunto è proprio la prima suddivisione grossolana chiamiamola così che facciamo di questo spazio aereo in termini verticali e in termini orizzontali questo ovviamente per quanto riguarda l'italia che cosa avviene nello spazio aereo inferiore troviamo la fir quindi la regione dove si danno informazioni volo e vabbè al di là della definizione questa sorvoliamo andiamo avanti e la fir coincide con tutto quello che è il volume di spazio aereo fino a livello di volo 195 escluse tutte le altre zone che vi sono all'interno ricomprese quindi le ATZ, CTR, le TMA e le aerovie quindi tutto questo volume escluse le altre zone al di sopra troviamo la WIR quindi la regione upper quindi superiore della FIR della Fly Information Region in Italia ci sono tre FIR, tre regioni informazioni volo e tre WIR che sono quelle appunto di Milano, di Roma e di Brindisi questa è per vostra informazione vediamo graficamente cerchiamo di capire l'importanza di questo spazio aereo l'ATZ l'avete studiato, l'avete visto, è stato battuto molto questo argomento è quello che crea più limitazioni quindi non si può volare o comunque a ridosso dell'aeroporto ci sono limitazioni di vuota sempre sempre via via più stringenti man mano che ci si avvicina alla pista di volo nasce, lo scopo di questo spazio aereo nasce appunto per proteggere il traffico di quell'aerodromo parte da terra, è uno spazio aereo che ha dei limiti verticali che ovviamente partono da terra dalla superficie della pista fino a una certa vuota e lateralmente ha dei limiti che sono specificati la funzione appunto è quella di proteggere perché questo aeroplano nella fase di decollo e nella fase di atterraggio si trova in una condizione talmente delicata che non può essere diciamo così disturbato di certo dal drone che gli passa davanti o quant'altro quindi le restrizioni sono maggiori simulando appunto come in questo caso una partenza superato usciti fuori una volta che l'aereo è decollato uscito fuori dall'ATZ si entra sostanzialmente quasi sempre all'interno di un CTR, di una zona di controllo eccolo qui è anche questo uno spazio più grande che ingloba una TZ o più ATZ e ha anche questo dei limiti verticali e orizzontali ha diciamo una funzione particolare che è quella appunto di contenere le rotte di arrivo e di partenza per quell'aeroporto e anche la funzione di diciamo separare i traffici aerei che appunto decollano o arrivano da quelli che sono soltanto di semplici attraversamenti di quella zona e che non devono andare a interessare l'aeroporto sottostante quindi fa questo tipo di funzione il CTR poi ovviamente ci sono zone più importanti come l'ATMA che è una sorta di grande snodo in aria parte ovviamente non dalla superficie ma il livello inferiore è già molto alto e il livello superiore coincide con il livello 195 è una sorta di grande incrocio dove gli aeroplani smistano cioè diciamo incrociano le varie rotte dove c'è quello che sale, c'è quello che scende c'è quello che va verso il CTR, c'è quello che attraversa questa diciamo è la funzione dell'ATMA anche questo spazio aereo ovviamente ha dei limiti verticali e dei limiti laterali che possono comprendere uno o più importanti CTR di quelli italiani quindi dove c'è tanta attività di volo un pre-smistamento di tutto viene fatto all'interno di un ATMA e poi ovviamente al di fuori di ATZ al di fuori del CTR, al di fuori dell'aerovia al di fuori della TMA o della CTA che è un'altra regione di controllo ovviamente c'è la FIR, quella che abbiamo visto prima dove ovviamente possono volare tutti gli altri tipologie di aeromobili per altre finalità ovviamente da una zona all'altra prima di poter entrare chi porta, chi guida diciamo un aeromobile ovviamente non nel caso del drone ma aeromobili con piloti a bordo devono richiedere il permesso di poter entrare appunto per garantire la sicurezza da una parte all'altra anche le aerovie sono delle zone degli spazieri che anche qui nascono c'è una finalità nascono per incanalare il flusso del traffico aereo per fornire all'interno i servizi del traffico aereo quindi la separazione, le informazioni e quant'altro quindi sono delle rotte che servono appunto per permettere la gestione ottimale del traffico aereo questa che vedete è un estratto dell'AEP Italia e sono appunto le aerovie presenti nello spazio aereo italiano sono tantissime questa è la zona della Sardegna quelle che vedete in nero queste che vedete in nero sono appunto tutte le aerovie sono le rotte quindi spazi aerei anche questi dove viene fornito che nascono per uno scopo e dove viene fornito un determinato tipo di servizio come vi dicevo tutto quello che è al di fuori di questi spazi aerei è la FIR quindi immaginate un po' come una sorta di matrioska quindi contenitori di diverse dimensioni volumetriche che in qualche modo si incastrano uno dentro l'altro quindi facendo un po' una sintesi di tutto questo partendo dal punto cruciale che è la fase di decolle e atterraggio che è quella più pericolosa per gli aeromobili vediamo che a protezione di un aerodromo il primo spazio aereo che troviamo è un ATZ poi via via sempre più grande troviamo il CTR poi troviamo le TMA dove sono presenti o comunque sia le CTA che sono altri spazi aerei troviamo ovviamente le aerovie o dette anche rotte ATZ e poi ovviamente tutto quello che è al di fuori di questi volumi quindi tutto quello che è il restante spazio aereo si chiama FIR per quanto riguarda la parte inferiore e WIR per quanto riguarda la parte superiore in EPP Italia trovate anche questo ma giusto per vostra cultura è la classificazione degli spazieri la trovate al NERRUT 1.4 dove appunto ci sono le 7 classi di spazio aereo presenti in Italia ricordo che sono implementate soltanto 5 quindi non è implementata la BRAVO e la Foxtrot con tutto quello che un pilota può fare o non può fare in funzione delle regole del volo che utilizza se regole strumentali quindi IFR o regole di volo a vista i divieti di sorvolo l'articolo 793 è molto importante perché è proprio quello che in qualche modo ci vieta dove volare o non volare e che in qualche modo poi noi ritroviamo all'interno delle mappe di flight dove ci dice qui non puoi andare, lì non puoi andare o qui ci puoi andare fino a una certa quota quindi vi invito ad approfondire questo aspetto legato al codice della navigazione in particolare all'articolo 793 che c'ha tre commi queste restrizioni possono essere di sicurezza e di ordine pubblico possono essere restrizioni dal punto di vista militare e giustificate le esigenze di carattere militare possono essere restrizioni legate all'ambiente e al territorio quindi come nel caso appunto del divieto di sorvolo sopra i parchi naturali come previsto dalla legge questa qui la 394 del 91 che appunto questo divieto scaturisce dal terzo comma dell'articolo del codice della navigazione 793 oppure restrizioni operative totali, parziali, temporanee come magari può avvenire o potrebbe essere avvenuto in questo periodo di coronavirus e quant'altro e concludiamo così questa prima parte di introduzione adesso nella seconda parte che seguirà andremo proprio all'interno del sito di flight e non solo andremo a vedere proprio un po' più da vicino questi spazi aerei a vedere proprio un po' più da vicino